Io credo che la gente deve avere le idee chiare, se vuole dare una mano alla montagna c'è una coalizione di centro-sinistra che ha governato bene, con tutti i problemi che l'Italia ha, che il mondo ha oggi, che sono tanti, che poi ci sono le persone pericolose, Salvini e 5 Stelle. Se avranno la maggioranza, 5 Stelle e Salvini, ragazzi, allacciamoci le citture di sicurezza, perché dietro l'angolo c'è la semina di odio, di violenza e forse anche qualche rigurgito del passato. Per cui mi sembra che le cose siano chiare, la nostra coalizione è fatta da moderati e da uomini e donne del PD. Siamo tutti assieme perché dobbiamo fermare l'ondata dei vantari.